La importanza delle tecnologie digitali nell'ambito del sistema Paese è assolutamente straordinaria. Basti pensare per esempio a tutte le attività che sono in essere e che saranno realizzate nell'ambito del piano di Industria 4.0 che avranno un impatto significativo dal punto di vista della competitività delle nostre aziende. Nel nostro caso l'argomento è un po' più impegnativo rispetto a quello che accade in altri Paesi europei data la peculiarità del tessuto industriale che richiede tra l'altro una serie di azioni di formazione che sono concertate e coordinate tra il pubblico e il privato nell'ambito delle quali certamente le università possono dare un contributo assolutamente prioritario con una serie di azioni quale quelle che il nostro Ateneo Sapienza ha già messo in atto nel tempo passato e che sono tuttora in corso. Grazie.